Una possibile risposta ad una domanda ricorrente. Che cosa avranno mai scritto durante il patto del Nazareno? Probabilmente nulla. Perché chi ha qualcosa da nascondere raramente scrive. È poi tanto difficile smentire, magari giurando sulla testa dei propri figli, come molte volte è avvenuto. Meglio parlare. E poi prendiamo i sani esempi che ci vengono nel nostro paese dalla mafia, dall'andrangheta, dalla camorra, che non scrivono mai. Al massimo riportano qualche brevissima frase su di una scatoletta di fiammiferi. Intendiamoci verbalmente come si dice. Dopo esserci assicurati che i muri non abbiano orecchie, né ci siano quei vetrini brillanti che rivelano la presenza di macchinette fotografiche e telecamerina. Non rimane quindi che immaginare cosa si siano detti Berlusconi e Matteo Renzi, in particolare quando ha esordito l'ex cavaliere dicendo «caro Matteo, tu sai che ho delle esigenze». E ha cominciato a enumerarle, la prima, la seconda, tante altre, fino al Quirinale. Non trascurando le aziende che in questi ultimi tempi hanno mostrato di non andare molto bene. E non tanto per la crisi economica, ma perché il modello, potremmo dire, inculturale, televisivo, che negli anni 80 ebbe successo purtroppo è in crisi, risulta vecchio, obsoleto e avrà ottenuto da Renzi le dovute garanzie come un tempo lebbe dal partito comunista, da quello che ormai era un partito comunista, degenerato, che aveva depauperato un patrimonio che aveva alle spalle. Infine il discorso deve essersi concluso con una frase di Berlusconi. Sappi che se sarai in grado di darmi tutto ciò che ti chiedo, i miei voti e quelli della accolita che capeggio, non ti mancheranno mai. È chiaro che dovrò darmi a qualche piccolo sketch di cui mi riconosci direi senz'altro maestro. Dirò peste corna sul tuo governo, non mi mostrerò d'accordo con le tue posizioni, ma sappi che sarà tutta una finta, perché in effetti quando ti serviranno i miei voti per evitare che cada il governo, li avrai. Ecco, e allora noi diciamo all'Italia degli onesti, attenzione, questi due soggetti stanno sfasciando l'Italia e ci prendono pure in giro. Grazie.